Esplosivi innescati. Sparate ai nemici che si avvicinano. Cariche piazzate. Vediamo di farlo esplodere. Tiratevi su. Il nemico ha disinnescato i nostri esplosivi. Cariche piazzate. Proteggetele fino all'esplosione. I nostri hanno distrutto l'obiettivo Alpha. Il nostro corso! Sto ricaricando, cazzo! Hanno disinnescato le nostre cariche. Esplosivi innescati. Sparate ai nemici che si avvicinano. Sparate ai nemici. Sparate ai nemici. Sparate.关izam. Sparate. Sparate ai nemici. Sparate ai nemici. Sparate via. Secondo op Grecia. Sparate ai nemici. Sparate ai nemici. Sparmate l'immagare. Sparate a kraby. Ricarico! Area in sicurezza. Avanzare nel prossimo settore. Ricarico! Ricarico! Nemici multipli nemicati! Medicinali, usaci! Ci sono diversi nemici! Ricarico! Ricarico! Ricarico eliminato! Ricarico! Ricarico! Devoniamo гол aspettare l'ho s Ladd! Tattel aggiorniamo col faccio più di spazio! Proviamo tutti i loti eccli olatriطi! abbiamo distrutto l'obiettivo prendi quello che ti serve cariche piazzate proteggetele fino all'esplosione perciò che ci serve Il settore è in sicurezza. Entrambi gli obiettivi sono distrutti. Ricarico! Ricarico! Sparco! Procedere al prossimo settore. Versaglio abbattuto! Ricarico! Ricarico! Explosivi in scatli. Parate ai nemici che si affincinano. Non morirmi ora! Vieni! Primo soccorso! Mi serve un medico! Tiratevi su! Medico! Mi serve un medico! Tiratevi su! Cariche piazzate! Vediamo di farle esplodere! Le nostre cariche sono state disinnescate dal nemico! Sono io! Banata in partenza! Cariche piazzate! Proteggetele fino all'esplosione! Medicinali! No! 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 L'anata lanciata è indietro! Super! 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 I trappi gli obiettivi sono distrutti. Abbiamo il controllo del settore. Una battuta! Vagli i miei medicinari! Metture sotto controllo! Avanti, proseguiamo! Attenzione! Accidenti! Bara! Bara! Aita! Aita! Bara! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501